Ai microfoni di Radio La Red, l'ex centravanti dell'Argentina Gabriele Omar Batistuta ha commentato le ultime convocazioni del Citi San Paolo soffermandosi soprattutto sull'esclusione di Gonzalo Higuain. È stato trattato molto male. Purtroppo il Pipita è stato condannato da un paio di errori. Nessuno ha avuto pietà, e questo ha influito non poco sul suo rendimento, ma non significa che non sappia giocare. Di certo è uno degli attaccanti più importanti a livello internazionale, e in Italia è un'icona. Ultimamente non sta rendendo secondo il suo potenziale, ma è un 9 su cui l'Argentina deve puntare.